Musica Bentornati all'appuntamento con il Tornasole. Vi sarà capitato a volte, magari anche nelle serate estive, di ascoltare sulla piazza del paese dove magari siete in vacanza una banda a suonare un repertorio più o meno noto. Ecco, siccome a noi la musica per banda ci piace molto, ci piace anche chiamarla musica per orchestra di fiati, siamo andati a curiosare a Roma, in uno dei luoghi più deputati ad altro come l'esercito. In questo caso siamo andati invece a vedere in una caserma, dentro la grande città militare della Cecchignola, dei grandi musicisti e dei grandi strumentisti che suonavano un repertorio molto particolare e a dirigerli c'era un maestro, direttore d'orchestra di fiati come Lorenzo Della Fonte e assieme a lui giovani che aspirano a diventare a loro volta anche direttori. E in questo bel ensemble abbiamo provato a metterci dentro il naso. Vediamo cosa è uscito fuori. Un maestro che dirige maestri che altri maestri dirigono. Lui è Lorenzo Della Fonte, direttore d'orchestra, docente di conservatorio e anche se non vi basta, talentuoso scrittore. Qui è con gli allievi del Conservatorio Verdi di Torino, ospiti a Roma della banda, o meglio, orchestra di fiati dell'esercito. Sono strumentisti di grandissime capacità musicali, artistiche, anche molto disponibili e quindi ci danno l'opportunità di fare un percorso di studio importante. Suonare bene insieme è anche una questione di respiro, che è parte dell'essenza della musica vissuta da dentro il mondo sonoro, dove è un po' come una pausa scritta sul pentagramma. La direzione di una banda non è diversa da quella di un'orchestra sinfonica. Sono diversi i timbri, sono diversi i colori, sono diverse anche le esigenze degli strumentisti. Banalmente loro per suonare devono respirare prima, cosa che archi o pianoforti in teoria potrebbero anche non fare. È sempre bene che si respiri insieme, perché respirare insieme garantisce il vero insieme. Però ci sono delle esigenze ovviamente diverse da quelle di un'orchestra sinfonica. Però diciamo che la tecnica e anche il modo di concertare sostanzialmente sono molto simili. L'esistenza reale di un'orchestra di fiati però nel nostro paese dipende solo dai corpi militari. Purtroppo le uniche bande professionali in Italia sono proprio quelle militari. Non abbiamo esperienze di altre bande professionali, come per esempio in Spagna. Ogni città ha una propria banda civile professionale. In Italia le bande professionistiche sono solo queste. Poi c'è tutto il mondo delle bande, chiamiamole amatoriali, che è in crescita molto, 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 molto importante e dovrebbe esserci un po' più di compenetrazione tra questi due mondi che a volte sono un po' distanti. Ma quello delle bande è un mondo sonoro alimentato a partire dal Novecento dal genio di grandi musicisti. Nel passato l'hanno fatto autori importantissimi come Granger, che eseguiamo proprio qui, ma anche come Indemith, come Schoenberg, come Mio, come Holst. Per cui si tratta di recuperare questi grandi capolavori e di capire che sono quelli la strada su cui andare, cioè la qualità della musica. La banda troppe volte è associata a musica d'ambiente o musica per una cerimonia, per una celebrazione, insomma in funzione di qualche cosa d'altro. Invece anche l'orchestra di fiati o banda è lo stesso. Ha un proprio repertorio originale di grandissimo valore. Bisogna conoscerlo e farlo conoscere. E adesso invece dal mondo della musica ci spostiamo in uno spazio profondo, ma molto molto profondo. Andiamo molto molto indietro nella storia del genere umano e lo facciamo con un virgilio d'eccezione, come Giorgio Manzi, che ha appena scritto un libro, Antenati, in cui ripercorre un po' tutta la storia dell'evoluzione umana. E a stuzzicarlo con domande anche molto appuntite e interessanti, c'era per noi il nostro Marino Galdiero. E vediamo allora come è andato questo contraddittorio. Giorgio Manzi, Antenati, Lusi e altri racconti dal tempo profondo. Che cosa vuole raccontare questo libro? Ma ho cercato di raccontare alcune storie, solo alcune, se ne potrebbero raccontare molte di più, che riguardano il nostro passato, le nostre origini, la nostra storia evolutiva. Noi abbiamo ormai capito abbastanza bene che veniamo da forme scimmiesche, che diventate bipedi iniziano poi ad acquisire una serie di caratteristiche che via via diventano quelle nostre, caratteristiche umane. Un percorso che dobbiamo pensarlo più come un cespuglio. Ma diciamo che possiamo ormai da tempo cancellare quelle immagini che solitamente vediamo sui giornali, a volte addirittura sui libri di scuola, in cui l'evoluzione umana viene rappresentata come una successione di specie, una pressa all'altra. In realtà no, non è andata così. Noi siamo il risultato di una storia molto più ramificata e complessa, che vede nel tempo varie forme di vita a noi simili, sempre di più simili a noi, tra loro contemporanee, che si contendono anche il territorio, che si accavallano tra loro, che si ibridano anche tra loro, fino ad arrivare poi appunto alla nostra specie che, come dire, dilaga sul pianeta. Ne vediamo tutt'oggi gli effetti. Lei cerca di raccontare questa storia attraverso uno stratagemma che è quello del ritrovamento da parte di extraterrestri di questo libro. Sì, sì, ho immaginato che degli alieni, del tutto fantastici, arrivino sul pianeta Terra e trovino dei manoscritti. E questi manoscritti dimostrano chiaramente a loro che le creature del pianeta Terra, cioè gli esseri umani, avevano raggiunto un livello di consapevolezza di sé delle proprie origini, della propria natura, proprio attraverso queste storie, che raccontano appunto le nostre origini su basi scientifiche, attraverso un processo analitico, rigoroso, attento, che non è più mitologia, non è più fantasia, ma è appunto delle origini che poggiano su dati scientifici. E questo convince gli alieni che effettivamente le creature che vivono sulla Terra sono intelligenti. Peccato che poi gli alieni si accolgano anche che queste creature si sono estinte, ma questa è un'altra storia. Le conoscenze che abbiamo oggi per quanto riguarda l'evoluzione umana ci permettono anche di avere un rapporto diverso con l'ambiente intorno a noi, con la natura. Sì, certo, gli esseri umani hanno sempre utilizzato la natura per la propria sopravvivenza, ma questo non è così insolito, nel senso che l'ambiente in genere, tutti gli esseri viventi utilizzano l'ambiente che hanno intorno. Noi poi, diventando sempre più numerosi, abbiamo dovuto far uso di animali e piante addomesticandoli, trasformandoli alle nostre esigenze. Io questo non lo trovo aberrante. Quello che trovo aberrante è che non si capisca quanto noi stessi facciamo parte di questo quadro naturale. E ci avviamo verso la conclusione, ci avviamo parlando del boom, forse boom è una parola un po' eccessiva, comunque della buona affermazione del settore dell'editoria per ragazzi in Italia che a breve, fra pochi giorni, a Bologna, festeggerà l'ennesima fiera che, lo ricordiamo, è sempre la più importante di settore al mondo. In Italia, un libro su quattro acquistato è un libro per bambini e ragazzi. Il dato emerge da un rapporto dell'Associazione Italiana Editori in vista della prossima fiera del libro di Bologna, il più importante appuntamento di settore al mondo, che si terrà nella città felsinia dall'8 all'11 aprile prossimi. In generale, nel 2023, in Italia, il mercato dei libri per bambini e ragazzi è cresciuto del 2,1% rispetto all'anno precedente, con vendite pari a 291,6 milioni di euro. Per quanto invece riguarda le copie, si tratta di 23,5 milioni di libri venduti, anche qui con un più 1,5 sul 2022. Da segnalare, inoltre, che più di un diritto di traduzione ogni tre venduto all'estero riguarda proprio questo settore. E sempre in ambito di letteratura per bambini andiamo in Gran Bretagna con queste immagini che documentano una splendida iniziativa dei reali inglesi che hanno accolto alcuni partecipanti a un concorso letterario per bimbi dai 5 agli 11 anni, chiamati a scrivere una storia, usando un massimo di 500 parole. I vincitori saranno annunciati il prossimo 7 marzo. E questo era veramente tutto per oggi. L'appuntamento con il Tornasole torna, ed è un gioco di parole che cerchiamo di fare appositamente la prossima settimana. Grazie.